La regola dell'1-0 colpisce ancora ed il Pescara vola al sesto posto in classifica in piena zona play-off. Dopo le vittorie di misura con Modena e Virtus Lanciano, i biancazzurri con il minimo sforzo portano a casa l'intera posta nella gara con una Provercelli Maidoma. Quanta sofferenza però nel finale per il Delfino che, dopo aver mancato alcune opportunità per chiudere la gara, rischia la beffa quasi allo scadere con un miracolo di Vincenzo Fiorillo che regala la vittoria ai suoi compagni. Baroni fa turnover mandando in campo Pucino al posto dell'influenzato Rossi, Fornasier e Caprari con Bikir Biarnason impiegato nell'inedito ruolo di trequartista. L'avvio vede la Pro in avanti. I piemontesi collezionano un paio di calci d'angolo prima di un colpo di testa di Ardizzone in area biancazzurra che trova però la respinta providenziale di Raffaele Pucino. Al dodicesimo il Pescara la prima vera occasione sblocca il risultato grazie a Gianluca Caprari che dai 25 metri trova l'angolino con la complicità dell'estremo russo ingannato probabilmente anche dal campo scivoloso. Il Pescara prova a mettere al sicuro il risultato ma come nel match di Lanciano i biancazzurri fanno fatica a costruire azioni da gol pericolose. Al diciottesimo però Zampano serve un pallone d'oro in area piemontese a Bikir Biarnason che manca clamorosamente il bersaglio grosso. Poi più nulla con i due portieri praticamente inoperosi. La ripresa si apre con la squadra ospite alla ricerca del pareggio. La squadra di Marco Baroni controlla la gara e si fa vedere timidamente con Memushai che chiama ad una parata non difficile russo. Ben più insidiosa la conclusione dalla distanza di Dario Zuparic con la palla che si alza di pochissimo sopra la traversa. Trascorrono i minuti e la Pro prende sempre più coraggio anche se Bikir Biarnason ad avere una buona opportunità di testa. Il finale vede l'assalto ospite con i ragazzi di scazzola che premono, creano alcune mischie furibonde in area pescarese prima dell'occasionissima del trentanovesimo quando Ardizzone trova una respinta miracolosa di Vincenzo Fiorillo. Il triplice fischio finale di Sacchi di Macerata fa tirare un sospiro di sollievo ai 6.000 dell'Adriatico che pensavano di soffrire meno ma che possono dare sfogo alla loro felicità per la conquista di tre punti di platino che permettono al Delfino di salire a quota 57. Il quarto posto è nel Mirino così come l'Avellino ma domenica prossima al Partenio ci vorrà un Pescara sicuramente più brillante anche se come dice Marco Baroni di questi tempi l'importante è soprattutto vincere.